Questo festival si sta facendo strada anche a livello di coscienza cinematografica mondiale perché partecipa ad altre rassegne, cosa si dice dell'Ariano Film Festival in giro? Guarda, io lo noto questo dal numero sempre crescente di film, di corto, di lungometraggi in lingua straniera, in tutte le lingue, per cui a parte il fatto di comprenderli a volte che non è facile, ma questo delinea e denota un allargarsi dell'internazionalità, infatti si chiama Ariano International Film Festival, se ne parla ogni anno di più, speriamo che a questo punto gli sforzi di tutta la famiglia Cocca e tutti noi insieme approvino poi anche un riconoscimento a livello nazionale anche come aiuto perché come ben sapete ogni festival non può vivere da solo, ma vive di quelle che sono le sovvenzioni, gli aiuti dell'Italia, dell'Europa, di tutto quello che è importante. Io credo che, come si dice, chi la dura la vince, per cui noi stiamo durando e vinceremo e stiamo già abbastanza vincendo.